Ciao ragazzi, allora oggi parliamo di una cosa che non va detta, nel senso che è una parolaccia, è una brutta parola e ragazzi io ve la dico solamente perché la si vede molto, la si vede spesso ultimamente su internet o magari in qualche messaggio o in qualche memes o memes o memes e quindi ve la spiego così, insomma così almeno la sapete però per favore, per favore, non usatela non è una parola, in realtà è un'abbreviazione, è composta dalle lettere A and F A F, A F, vuol dire as l'ho detto una volta per farvelo capire, adesso non lo userò più per cosa si utilizza A F? Per enfatizzare qualcosa per esempio I'm bored A F, sono annoiato A F, cioè sono molto annoiato They are rich A F, sono ricchi A F, cioè sono molto molto ricchi I'm not doing this, this is stupid A F No, non lo faccio questo, questo è stupido A F, è molto stupido Attenzione, ripeto, perché dopo mi arrivano i messaggi Ah ma c'è mio figlio su questa pagina, ma non insegnare queste cose Ma dai ma per favore, ma cos'è sta roba? Non usatelo, è una cosa che ve la sto spiegando perché ormai siete su internet 24 ore al giorno E una cosa del genere o l'avete già vista o la vedrete in futuro Perché ormai è dappertutto, è nei meme, nei messaggi e ovunque Piuttosto che facciate una figura Usandolo e magari non sapete neanche cosa vuol dire Ragazzi ve lo dico prima, quindi non usatelo Adesso se lo leggete lo sapete Ma non usatelo Ah sì, una che si vede molto è I'm lazy AF Quindi sono molto molto pigro, pigra, svogliato, svogliata Ok No, sta gi a usarlo Non lo dovete usare, capito? Alla vera, non dovete usare Alla vera Non usatelo, eh Non usatelo mica, dai Alla vera